Mi è piaciuto molto fare i due video precedenti, quello dei manichini comprato da Tata perché è una nuova maniera di presentare gli oggetti comprati lì e mettendoli in quel video un po' divertente. Anche se io continuo a fare sempre i video come ho sempre fatto con con gli oggetti spiegando la spiegazione di cosa si tratta. Quello era soltanto un modo diverso dal tesoro, in qualche modo qualcosa di originale come rappresentare questi oggetti, che tra l'altro la spiegazione dell'oggetto l'ho spiegato in qualche video fa, che poi metterò sotto questo video anche il link dove parlo dell'oggetto, specifico quando è atto, quando è costato tutto il resto. E in seguito forse ne farò add di questo di questo genere. Anche con un